Allora, la Marsetti, guardala! Che è fantastica! A Fellini sarebbe piaciuto molto tutto questo. Io penso infatti ogni tanto che questa trasmissione gli sarebbe piaciuta tantissimo. Allora, proprio perché è surreale, no? E noi facciamo la piadina fritta. Sì, sì. Gli dedichiamo questa piadina fritta, che comunque in Romagna si usa come snack, no? Solito, sai, le fritture sono sempre molto gradite. Come hai fatto l'impasto? Allora, l'impasto è un impasto classico della piadina con della farina di frumento, il lievito di birra fresco, l'olio, l'acqua e un po' di sale. E quindi questo è. Queste sono le classiche dei chioschi in Romagna, no? Esatto. Un po' il clima dei vitelloni, ma secondo me i vitelloni una piadina fritta se la mangiavano. La si trova a striscioline solitamente, nei connetti tipo quelli di carta. Ti do da lavorare cortesemente. Sì, io sono venuta a posta, andiamo in mani più ad entrare. Perché l'andremo a condire, a decorare, diciamo così. Ricotta, lo zest di limone e questo è un po' di pepe. Quello è un po' di buccia, un po' di pepe rosa. Te lo metto tutto? Sì, mettiamola tutta così almeno facciamo tutto. Guarda come il mio servo, perché è la vendetta, capito? Perché di solito sto io e io faccio un po' di pepe. Esatto, oggi tutta. Vabbè, ma tu sei una bravissima cuota. No, non lo so. Non lo so, ma così, non con la facchetta? Sì, così semplice. Poi ti butto le zeste tutte? No, la metà, dai. Vuoi un cucchiaino alto? No, no, con le mani. No, con le mani, in cuscina. Io uso le mani, tu cosa fai? Io uso le mani, assolutamente, per quando sono in una situazione così, come casa. E certo. Poi un po' di pepe rosa. Un po' di sbriciolamento, come se fosse una pozione magica. Sì. Bello, mi piace. Ecco. Una volta che poi ci mettiamo anche un po' di sale, pepe e olio. Faccio lavorare tutti oggi? Eh, ma certo. Il cucciolo ha bisogno d'aiuto. Eh, se il cucciolo ha bisogno d'aiuto. Io alfio, e alfio che nano è? Mammolo, perché è mammone. Perché è mammone. Mammo. Cosa ha detto? Ho messo anche l'olio, ma invece è condito così anche il caprino, per dire, no? Sì, molto buono. Così da mangiare sul pane. Anche lui c'è una punta di acidità, secondo me, che è buona con il pane. E sta già friggendo, vedi? Eh sì. Cioè, così sì. La piadina, a differenza della piadina normale che viene fatta sul tesso, sulla linea, eccetera. Ma ma questo coltello basta. In questo modo, invece, sì, tu la tiri e la friggi. Esattamente. Non la tagli dentro, no? No, 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 no. Abbiamo anche messo a marinare delle zucchine. Io la mela non la volevo dall'Evelina, perché so che è avvelenata oggi. Sì, esatto. Quindi ho messo a marinare delle zucchine. Ok. Come l'hai marinata? Sempre con gli stessi ingredienti, pepe? Con un pochino di, sì, sempre pepe rosa, pepe classico, olio e sale. Si posso dare un consiglio a usare una ricotta molto cremosa, altrimenti se prendete quella che affera, passate, secondo me. Fai più fatica a spalmarla. Perché deve venire tipo crema, insomma. Giusto? Sì. Assolutamente, sì. La giriamo un paio di volte, così prende un bel colore e cuoce bene. Io chiaramente ne avevo già. Che meraviglia. Io vorrei assaggiare una con... Te la faccio immediatamente. Con la coppa. Con la coppa, sì, perché con le zucchine no. Sì, per cambiare. Allora, questo che continuo a picchiarci dentro lo metto qui. Vedi? Poi chiaramente uno a casa... Io sinceramente puro un po' di zucchero. Anche? Anche solo un po' di zucchero e diventa dolce. Cioè, diventa dolce. Per me... Allora, ognuno chiede e sarà dato. Ma come funziona? Possono mangiare loro... Allora, chiunque eccetto Alfio. Ma no, Alfio! No, Alfio non può. No, mamma lo sì! Ti sei fregata! No, anzi, mamma lo che è Alfio non può. Senti, Francesco, ma questo piatto qua prendiamo? Sì, quello lì dietro con i tovagliolini tutti coloranti. Sai perché non può? Perché si è fidanzato, tutti sanno tutto. Eh, si è fidanzato. Cioè, ha delle storie e io non so niente. Mi incontri tutti i martedì? Ci abbracciò, ci salutiamo, non mi dici niente. Veramente, è proprio una cosa orribile. Ti fidi, ti fidi della te. Ecco, mi fido. Poi ci vediamo e ti racconto. Però il mio cucciolo Marsetti anche lei non mi... Dimmi se ha una fidanzata, non voglio sapere chi è. No, no, fidanzata, fidanzata, no. Però non possiamo parlarne così di fretta oggi. Ma cioè, però c'ha dei giri. Ovvio. Importanti, tra l'altro. Ma uno che baglia così. Uno che baglia così. È sexy, capito? È sexy. Non ce n'è. Non ce n'è. Insomma, io ne volevo un pezzettino. Ecco, questa qui è rimasta qua da sola. Mettiamo un po' di coppa. No, questa è rimasta qua da sola. Io non sono fidanzato, sono singolo. Singolo? È nuovo. È poco, poco. No, no, no. È bulla coppa. No, non ci provare, Alfio. È bulla, no, no. Mi sporco con le zucchine. Alfio, se fai il bravo e mi dici la verità, ti do un pezzetto. Non te la dirà mai. Ma scommetti che per un pezzo di... Vediamo. Dai. Alfio, due. Gioca il totto scommesso. Guardami, due. Alfio, tre, 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 tre. Cosa devo dire? Tre, due. Sei fidanzato, sei sì, con chi? No, 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 con chi no. Ma sei fidanzato? No. Con chi? Perché mi dici con chi no, allora? Guarda, è un bugiato. No, allora non hai niente. Guarda, Alfio, mamma, lo guarda, eh. Guarda a me. Questa è la spreca. Dai, Bianca Neve. Dai. Dai, Bianca Neve, sei qua di come generetto. Di la verità, che ti fa bene. Ti spavano libero. No, no, ma io sto bene, eh. Angela, io vorrei vedere il piatto. Guarda, che ti dico, ti dico, ti dico, ti dico, è bellissimo. Fate come volete. Scusami, scusami. No, ma nel senso che... Grazie. Federico Fellini, piadina fritta. Scusate, non la sto già mangiando. Grazie, Angela. Grazie. 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 Grazie.